Conto alla rovescia per il campionato della lanterna sarà l'undicesima edizione ma una vera e propria edizione zero con il testimone che passa dal circolo nautico Marina Genova Aeroporto al circolo nautico del Mandraccio responsabile del comitato organizzatore di questa undicesima edizione Gianluca Boschini. Ci siamo, siete pronti per tre weekend davvero speciali nel cuore di Genova. Esatto, ci siamo, siamo molto vicini, per noi è l'anno zero come hai detto, ci teniamo tanto, la passione è tantissima. Il campionato in realtà è stato ideato dal circolo nautico Marina Genova Aeroporto, quindi dalla Monica, Ernesto, Max e portato avanti egregiamente. Quindi il nostro compito è difficile perché comunque loro hanno fatto bene, hanno fatto crescere una flotta e noi ereditiamo metà del lavoro, quindi metà lavoro dobbiamo ringraziare per forza loro. Normalmente non siamo soli ovviamente, ci sono gli altri circoli, noi abbiamo la regia, quindi siamo tutti insieme, anzi ci avvaliamo della collaborazione di tutti i circoli. Quest'anno sono anche aumentati di tre, ci fa piacere, vuol dire che l'idea sta passando e effettivamente mancano pochi giorni perché noi il 14 iniziamo con il briefing tecnico, saremo alla Marina di Genova, alla fiera e avremo il benvenuto delle barche perché quest'anno abbiamo una novità per via del campo Charlie che non è forse praticabile per la diga foranea, abbiamo dovuto spostare il campo a Levante, queste cose si decidono molto prima, la capitaneria ovviamente non poteva dare dei giorni. Questo però ci ha consentito, ringraziando la Porta Antico, SPA e l'amministrazione comunale, di avere e di offrire un rolmeggio gratuito a tutti i partecipanti per tutta la durata dell'evento. Quindi questa è una cosa nuova, è una cosa che ci piace perché crea quello spirito in banchina, che è la cosa bella per noi che piace regatare, partire, arrivare tutti insieme tra lo stesso momento e anche perché in banchina ci si confronta, si cresce come fare un campionato italiano, come fare le grandi manifestazioni in giraglia piuttosto che puntare, questo ci piace tantissimo. Un'altra novità è che abbiamo condensato, abbiamo accorciato la durata dell'evento che è di quattro giornate, quindi il 14 ho detto che c'è il briefing, la prima prova sarà la domenica successiva 15 e poi avremo sabato 21 e domenica 22 e chiuderemo sabato 28. Il vantaggio di partire tutti insieme è il meteo, se ce lo consente, potremmo provare a fare due prove, siamo tutti lì e non si perde il tempo ad arrivare da altre parti lontane e quindi potremmo farcela, incrociando le dita ovviamente. Il 29 invece ci sarà la premiazione alla Lanterna di Genova, al Museo della Lanterna di Genova, anche qui ringraziamo ovviamente l'amministrazione comunale che ce lo consente e visto che dobbiamo regatare non davanti al nostro campo Charlie, ma alla nostra cara lanterna, è un'occasione secondo me eccezionale per poter anche consentire a molti regatanti magari di entrare per la prima volta in un monumento che è bellissimo e poter vedere sia il museo sia il faro, ci sarà poi un rinfresco. Tutto questo è consentito anche da alcuni sponsor, abbiamo i sponsor Kaim Group che hanno sposato la nostra casa quest'inverno, quindi io personalmente ho bussato a diverse porte e abbiamo ottenuto diversi consensi e questo ci consente anche di poter fare un evento, speriamo, all'altezza. Ripeto, l'eredità di Monica e Ernesto è pesante, la volontà c'è tutta, la passione anche. Le classi abbiamo la ORC, poi abbiamo la IRC e abbiamo la monotipo divisa in G80 e G24. Nella classe ORC abbiamo deciso anche di inserire il gruppamento Gran Crociera, quindi occorrerà un certificato ORC comunque valido. Le iscrizioni scadono alle 22 del 9 ottobre, quindi anzi approfitto per mancano pochi giorni, normalmente noi regatanti ci iscriviamo gli ultimi tre giorni e la maggior parte è nelle ultime tre ore degli ultimi tre giorni, quindi spero che il numero possa ancora aumentare, abbiamo già diversi iscritti, ci fa piacere, spero che anche le flotte del Levante e del Ponente possano sfruttare la possibilità di un ormeggio gratuito. A noi piacerebbe che le flotte si possano unire, questo sia dal lato degli armatori che magari possono partecipare al nostro campionato, ma anche ad altri eventi, ma anche degli equipaggi, quindi è voluto condensare in questo periodo molto breve proprio per consentire a tutti di partecipare e non tralasciare gli altri campionati. Quindi ci aspettiamo che qualche risposta già da Loano è arrivata, qualcosa possa arrivare anche da Varazze e da Levante e siamo fiduciosi che questa idea possa essere portata avanti poi in futuro.